Buongiorno, buon giovedì 8 aprile, benvenuti al primo appuntamento con l'informazione sulla 7 con la rassegna stampa di Omnibus, dunque la lettura consueta dei giornali con i temi principali che oggi i quotidiani riportano nelle loro prime pagine e naturalmente le prime pagine che sono piene di notizie riguardanti AstraZeneca, il vaccino anglo-svedese protagonista di una specie di corsa sull'ottovolante perché insomma in queste settimane non si è parlato d'altro per quanto riguarda la campagna vaccinale con il farmaco prima riservato a una fascia età al di sotto dei 50 anni poi allargato a tutte le fasce d'età e adesso la decisione dell'Agenzia Europea del Farmaco di consigliare agli Stati la somministrazione soltanto dai 55 anni in su lasciando però ai singoli membri dell'Unione Europea la facoltà di scegliere quale strada intraprendere. L'Italia ha deciso di riservare il vaccino AstraZeneca agli over 60. Questo naturalmente comporterà anche una revisione del piano vaccinale il che ha suscitato naturalmente non solo le perplessità ma anche le proteste dei presidenti di regione che oggi peraltro si confronteranno con il governo, il premier Draghi appunto al centro di un tavolo l'argomento centrale è il recovery plan ma ovviamente si parlerà anche di altri argomenti, le riaperture e la rivisitazione di un piano vaccinale che deve tener conto adesso di questa limitazione. Ricordiamo che l'AstraZeneca è al centro dell'attenzione delle autorità farmacologiche e mediche per alcuni casi di trombosi che si sono verificati dopo la somministrazione del vaccino. C'è da dire però che sono numeri infinitesimali come molti esperti naturalmente continuano a sottolineare, si parla di 222 casi mi pare di ricordare su oltre 34 milioni di somministrazioni. Però insomma la cautela è sempre d'obbligo anche perché non c'è una netta come dire ferma posizione dell'Agenzia europea del farmaco sulla correlazione, insomma ci potrebbe essere una correlazione quindi meglio essere prudenti. Allora andiamo a vedere come il Corriere della Sera apre oggi la sua prima pagina, AstraZeneca, oltre i 60 anni, la circolare seconde dosi senza limiti, draghi avanti con gli anziani e regioni all'attacco. E per l'appunto come dicevo, come vi dicevo, c'è, non la sommosa, ma insomma la protesta e la preoccupazione delle regioni per il vaccino AstraZeneca saranno privilegiate le facilità sopra i 60 anni. La raccomandazione del Ministero dopo il risponso dell'EMA, l'Agenzia europea che ha chiarito un nesso con rari casi di trombosi e che comunque i benefici sono maggiori dei rischi. Non ci sarà nessun limite per le seconde dosi. Le regioni chiedono indicazioni chiare sulle somministrazioni e sulle forniture. Sempre a proposito dell'inchiesta, ecco perché in Italia si muore di più di Covid, di Marco Imarisio e Simona Ravizza. Ancora dalla prima pagina del Corriere della Sera, in taglio centrale, la foto di quello che è un caso diplomatico internazionale, critica ad Erdogan, ma anche al capo del Consiglio europeo per il suo silenzio. L'offesa a von der Leyen lasciata senza sedia. Ad Ancora, martedì scorso c'è stato questo incontro ufficiale, bene, il Presidente Erdogan ha ritenuto opportuno accogliere accanto a sé in una poltrona riservata il Presidente Charles Michel del Parlamento europeo, relegando la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su un divano defilato. Insomma è stato già ribattezzato questo episodio, il Sofa Gate, una chiara ed evidente mancanza di rispetto nei confronti di Ursula von der Leyen e di questo si continuerà a parlare. Ancora dalla Corriere della Sera vi segnalo l'editoriale di Antonio Polito che dice che ora serve un segnale, di segnali ce ne stanno tanti e bisogna comunque ovviamente valutare anche quelle che sono le prospettive in relazione ai dati che arrivano per quanto riguarda la pandemia, ma che insomma chi spinge per riaprire invece piuttosto che dati. Gli operatori del settore turistico alberghiero per esempio rivendicano certezze, altrimenti dicono che è impossibile programmare alcun che oggi come vi dicevo si parlerà diffusamente nel corso dell'incontro tra Governo, Regioni e enti locali proprio della possibilità di riaperture anticipate rispetto alla fine di come è previsto dal decreto in vigore. Andiamo all'interno del Corriere della Sera prima di dare spazio alla pubblicità. Noi limiti per AstraZeneca, qui c'è una valutazione, l'EMA c'è una possibile relazione con i coaguli ma il farmaco è sicuro, lo Catelli e il CTS nulla cambia per le seconde dosi, stati europei in ordine sparso e questo è un altro problema. Intanto c'è il confronto, le valutazioni per quanto riguarda i vantaggi potenziali e danni potenziali in due situazioni, in condizioni di bassa circolazione e di media circolazione. Dice Giorgio Palù, presidente di AIFA e componente del Comitato Tecnico Scientifico, la trombosi resta un effetto raro però è giusto indagare sugli eventi avversi. Ci fermiamo a pubblicità, poi la seconda parte della nostra rassegna stampa. Buongiorno, seconda parte della nostra rassegna stampa, eravamo all'interno del Corriere della Sera, ci rimaniamo perché vi segnalo a pagina 5 domande e risposte, cioè tutte le domande e le risposte plausibili in relazione appunto al caso AstraZeneca per l'EMA, pericoli maggiori con il Covid, colpite più donne ma il sesso non è un fattore influente, l'incognita dell'età per i casi avversi, qual è il rapporto tra rischi e benefici? In questa pagina ci sono 9 domande e altrettante risposte proprio per avere un quadro completo della situazione alla luce anche dei dati forniti dai vari stati sui casi che si sono evidentemente verificati. Andiamo sulla prima pagina della Repubblica, il verdetto su AstraZeneca, meglio dai 60 ai 79 anni, è l'indicazione preferenziale data dal Governo alle Regioni. Dopo gli ultimi esami dell'EMA il vaccino è sicuro, gli aspetti del CTS, così il piano di somministrazione sarà più veloce, contagi in discesa, ma ieri 627 morti. Lavoro, nuove proteste, Landini no al licenziamenti fino ad ottobre. Landini chiede insomma che il blocco dei licenziamenti venga prorogato fino alla fine di ottobre. Intanto il commento di Francesco Manacorda che parla di un paese stretto tra due sfide, quali sono le sfide, la battaglia contro la pandemia e naturalmente anche una campagna vaccinale che ancora, leggo testualmente, non decolla, i rifornimenti di dosi non tengono sempre il passo con le previsioni. A proposito della campagna vaccinale, all'interno di Repubblica, vi segnalo un'intervista a Zingaretti, a Nicola Zingaretti, potremmo fare molto di più ma mancano le dosi. Il governatore del Lazio, ex segretario del PD, che per l'appunto denuncia una situazione che sul piano organizzativo, il Lazio assieme al Veneto è una regione virtuosa sul piano vaccinale, però ovviamente occorre rifornire le regioni di dosi sufficienti. Turchia, l'offesa di Erdogan, nega la poltrona a von der Leyen. Ecco qui la foto con la Presidente della Commissione europea che rimane quasi interdetta rispetto a una situazione che certamente non si aspettava di dover trovare. Lasciamo la Repubblica, vediamo la prima pagina della stampa, caos vaccini, AstraZeneca gli over 60, Speranza ma il piano non cambia, Crisanti è ma vergognosa, non possono decidere i singoli paesi. Così il professor Crisanti, che naturalmente critica la posizione dell'Agenzia europea del farmaco, che ha rimesso ai singoli stati la decisione di valutare e fissare i paletti anagrafici all'interno dei quali appunto somministrare questo vaccino. L'Agenzia europea però non limita l'uso del farmaco, benefici superiori ai rischi, legame raro con le trombosi. Anche la stampa nel sofa gate del regime Michel Sinchina al Sultano, già perché il macismo di Erdogan scrive la stampa in prima pagina per von der Leyen, la sedia non c'è. E beh, insomma, è stato criticato anche l'atteggiamento del Presidente del Parlamento europeo, Charles Michel, che insomma non ha fatto una piega, ha preso posto laddove Erdogan aveva deciso che si sarebbe seduto lui e non la von der Leyen, come detto, defilata su un sofà laterale. Lasciamo la stampa, vediamo il messaggero in prima pagina. Piano per le isole no Covid. Qui si parla in prospettiva di un piano di vaccinazione per le piccole isole in vista della stagione turistica. La lettera del commissario ai sindaci per vaccinare gli abitanti e far ripartire il turismo da Capri a Ponza, corsa contro il tempo. La Grecia concluderà la profilassi a fine aprile. L'operazione isole, leggiamo brevemente l'inizio del pezzo, l'operazione isole cold free è pronta, il governo lavora per concretizzarla da fine aprile. Non solo Capri e Procida, messe su una corsia preferenziale dalla regione Campania, che a colpi di vaccini punta a salvare la stagione estiva nei gioielli del Golfo di Napoli. Ma anche Ponza, le Lipari, Pantelleria, l'Elba e le altre possono aspirare ora al marchio, salva vacanze, lettera del commissario ai sindaci per vaccinare gli abitanti e far ripartire il turismo. Certamente questo è un problema evidentemente grave in vista proprio della prossima stagione turistica. Anche il messaggero riserva spazio al caso AstraZeneca. Il governo avvora più dosi da Pfizer e l'ema trombosi, effetto molto raro. Lasciamo il messaggero, andiamo a vedere domani. Domani riserva tutta la prima pagina al caso AstraZeneca, effetti collaterali, ma è comunque meglio del Covid, scrive domani in prima pagina. Ci sono collegamenti tra il vaccino e una rara trombosi, ma è comunque dieci volte più sicuro di una pillola anticoncezionale. L'Italia e altri paesi raccomandano la somministrazione solo agli over 60. Poi l'editoriale di Mattia Ferraresi, la verità oscurata sul vaccino con la tecnica del riflettore, la rappresentazione falsata, mette in contrapposizione Ferraresi gli effetti benefici del Covid, che sono di gran lunga superiori rispetto ai rischi, scusate, di AstraZeneca rispetto ai rischi, ovviamente che il vaccino può comportare. Insomma, certamente salvarsi dalla pandemia è prioritario rispetto ai rischi estremamente limitati, come del resto la stessa Agenzia del Farmaco Europea ha sottolineato. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Fatto Quotidiano, Moratti Vergognati, la follia dei vaccini senza prenotazione, anziani in cuda, al gelo, file in carrozzina, Bertolaso no apposte su tre piattaforme. La polemica sulla procedura di prenotazione in Lombardia che sta creando, insomma, più di qualche problema a chi deve somministrarsi, a chi deve essere sottoposto alla somministrazione del farmaco, soprattutto agli anziani. E il Fatto lo denuncia oggi in prima pagina. Andiamo a dare un'occhiata anche a Libero, le ragioni del dilagare della protesta. Libero sceglie un'apertura dedicata alle proteste per accelerare la riapertura di molte attività economico-commerciali. all'Italia saltano i nervi, le manifestazioni a Roma e Milano sono appena all'inizio, gente in piazza, in altre decine di città. La maggioranza silenziosa alza la voce, poi poi non ce la fa più e si sente tradita dalla politica. I ristori arrivano prima ai dipendenti all'Italia che ai negozi rimasti chiusi. Così Libero diamo uno sguardo anche ad avvenire. Eccolo qui. Avvenire, vaccini, cambio in corsa, legame fra AstraZeneca e rarissime trombosi, l'Italia decide uso preferenziale per gli over 60. Poi dal Vaticano, un appello ai grandi paesi, così si potrà fermare il Covid, ridurre il debito dell'Africa. Poi di spalla, l'editoriale, eccolo qua, scusate, cerchiamo di fermare il giornale, eccolo qua, Andrea Lavazza che firma un editoriale del titolo a volte bisogna offendersi, Europa, Turchia e vera diplomazia. E naturalmente il commento a quanto accaduto ad Ancara che anche a venire riporta, niente sedia a Budiel von der Leyen, sgarbo di Erdogan discriminata, la Presidente della Commissione da avvenire. Andiamo sul foglio. L'editoriale del direttore, Claudio Cerasa, il nemico del virus, non le chiusure. Per salvare i ristoratori dal partito unico degli sciacalli serve un piano con nuove regole per tornare a sognare. Legittima la protesta, ma certamente servono ovviamente risorse, ma soprattutto anche iniziative per rilanciare le attività in grave crisi. Il giornale titola così, AstraZeneca sì, ma non per tutti, caos vaccini. Il Governo sconsiglia il siero per gli under 60, così cambia il piano. Pochi soldi per le riaperture, rischio nuove tasse. Lasciamo anche il giornale, andiamo velocemente sulla verità. Speranza non capisce il dramma delle partite IVA, ma dovrà cedere. Intervista con Matteo Salvini, vi segnalo all'interno della verità, la sinistra pensa allo Iussoli, per questo ci vuole la Lega al Governo. Violenza sbagliata, però il 99% di chi chiede di tornare a lavorare lo fa in modo pacifico, dice il leader della Lega. Riaperture necessarie, già dalle prossime settimane vedrete che ci saranno. Il PD cerca l'incidente, noi non abbocchiamo, e poi si esprime anche sul Quirinale. Anche sulla verità, eccola qui la foto, questa è abbastanza didascalica di quello che è accaduto in Turchia. Qui vediamo il presidente turco Erdogan, alla sua destra il presidente del Parlamento europeo Michel, e poi, come detto, defilata su un divano, Ursula von der Leyen. Anche la verità parla di AstraZeneca, scrive, per meglio dire, di AstraZeneca, altro giro, solo sopra i 60 anni, Lema rivela la correlazione con le trombosi. Lasciamo la verità, e andiamo anche, insomma, cerchiamo di stemperare un attimo questo clima così fosco, che ci accompagna ormai da più di un anno. Parliamo anche di sport, perché, insomma, va detto che l'Inter ha raggiunto la decima vittoria di fila, ormai è quasi irraggiungibile, la squadra di Conte si sta involando dopo la vittoria sul Sassuolo nel recupero per 2-1, si sta involando verso la conquista dello Scudetto, segnaliamo anche la vittoria della Juventus, che è salita al terzo posto dopo aver battuto il Napoli. E con questo è tutto per la rassegna stampa, adesso cedo la parola a Paolo Sottocorona per il metro, prima edizione TG alle 7.30. Eccoci, buongiorno. Ci sono poche nuvole questa mattina, le ultime della serie dei giorni scorsi stanno lasciando il sud, quindi la previsione, l'immagine della giornata di oggi è abbastanza conseguente a questo inizio, nel corso della giornata non cambierà molto, la carta che dovrebbe presentarci le piogge, come vedete, fallisce in questo compito, perché di piogge non ce ne sono, e ci sono anche pochissime nuvole. Domani però cambia qualche cosa, si affacciano delle nuvole da ovest, nord-ovest, interessano il nord, arriveranno a fine giornata anche al centro e cominceranno a essere accompagnate da qualche debole, debolissima precipitazione, un po' sulle zone alpine, quelle occidentali, un po' quelle orientali, la Liguria, l'Appennino-Settenzionale, l'Alta Toscana, ma sono quantità veramente minime, più che altro aumenta il grigio, e questo è però un passo, perché nella giornata di sabato il maltempo al nord arriva. Nel complesso, abbastanza debole, guardate la parte orientale, l'Emilia-Romagna, però il verde sapete che corrisponde a un millimetro di pioggia, quindi appena un po' di incertezza, però ci sono anche le zone in blu che sono piogge moderate e poi c'è questa zona in giallo che pare prendere la Liguria di Levante, parte dell'Alta Toscana, l'Appennino-Tosco-Emiliano, insomma è una zona di maltempo. Al centro arrivano deboli piogge, a parte appunto l'Alta Toscana, prendono un po' le Marche, un po' l'Umbria, in parte potrebbero prendere il Lazio, ma poi per il resto il sud, vedete, resta in questa situazione e questo maltempo insisterà più al nord che sul resto dell'Italia, in realtà. Vediamo le minime di questa mattina, ancora piuttosto basse, perché fra l'altro il cielo sereno, sapete che contribuisce a far scendere di più le minime, quindi avrebbero dovuto risalire un po', invece sono sempre molto basse da nord a sud, e lo stato dei mari, che invece tende a migliorare su alcuni bacini settentrionali, molto mossi, soltanto quelli più meridionali, a largo, anche agitato, lo Ionio, ma molto lontano dalle nostre coste. Se volete ci vediamo alle 7.55, adesso pubblicità, e poi la prima edizione del nostro telegiornale con Roberto Bernabai. A più tardi. a più tardi. A più tardi. A più tardi. a più tardi.